eccoci qua con le due tabelle artiste album del progetto musica cosa dobbiamo fare dobbiamo correlare questi dati cioè dobbiamo correlare le due tabelle perché beh semplicemente perché dato un artista magari mi interessa sapere quali sono gli album che ha prodotto e viceversa dato un album sono interessato a conoscere che è l'artista che lo ha realizzato quando si progetta un database normalmente si parte dalla realizzazione di un modello uno schema concettuale indipendente cioè da qualunque dettaglio di implementazione a tal scopo si utilizza un particolare modello detto entity relationship non sto entrare nel dettaglio perché chi fosse interessato può seguire le lezioni che ho inserito nella playlist di classe quinta però vorrei fornire appunto una interpretazione di questo schema di questo diagramma intanto le i nostri le nostre tabelle qui sono rappresentate con dei rettangoli si chiamano entità gli attributi sono quelli che vedete indicati a lato del rettangolo e questo 01 che vedete vicino agli attributi e la cardinalità di questi attributi indica opzionalità significa per esempio che la data fine può avere zero valori o al più un valore nei database i dati sono correlati e nello schema entity relationship questa correlazione rappresentata mediante rompi all'interno dei quali sono inseriti o dei sostantivi o delle forme verbali e poi vengono questi rompi collegati alle entità che sono correlate inoltre sono rappresentate cosa molto importante le cardinalità sono queste coppie di numeri che vedete qui che abbiamo già visto anche per gli attributi che rappresentano il primo valore la cardinalità minima il secondo valore la cardinalità massima in sostanza specificano quante occorrenze di queste due entità sono coinvolte nell'associazione forse più chiaro se faccio un esempio di come va interpretata questa associazione e le cardinalità relative dato un artista questo artista quanti album produce la cardinalità vicino ad artista ci dice che può produrre al minimo un album altrimenti non sarebbe un artista al massimo n dove n è un valore non specificabile ma sicuramente maggiore di uno analogamente possiamo fare il ragionamento partendo da album dato un album quanti sono gli artisti che lo producono e al minimo uno e al massimo uno cioè uno solo non vi confondete per artista noi non intendiamo il singolo artista potrebbe anche essere una band guardando le cardinalità massime 1 n deduciamo questa è un'associazione 1 a molti inoltre è un'associazione bidirezionale perché partendo dall'artista posso ricavare gli album che ha prodotto e viceversa partendo da album posso risalire all'artista ecco una volta che è realizzato lo schema concettuale bisogna trasformarlo in uno schema logico lo schema logico tiene conto del particolare dbms in uso ci sono tanti database management system che seguono modelli dei dati diversi noi utilizziamo un dbms relazionale e quindi il modello logico dei dati è quello relazionale e vediamo in che cosa consiste questo modello logico relazionale dei dati il modello logico relazionale è un modello che si basa su un formalismo matematico quindi un modo di rappresentare le entità che abbiamo visto prima nel modello logico è quello di avere una notazione molto simile a quella delle funzioni il nome della dell'entità e poi tra le parentesi tonde i vari attributi separati da virgole la convenzione che si adotta quasi universalmente o forse universalmente è quella di andare a sottolineare quelli che sono gli identificatori univoci dell'entità bisogna però ricordare che cambia il formalismo cambiano anche i termini utilizzati quindi gli id che abbiamo chiamato in precedenza identificatori univoci in questo modello diventano chiavi primarie ma l'obiettivo lo scopo e lo stesso identificare univocamente ogni occorrenza di queste relazioni si chiamano così relazioni c'è poi anche un altro modo però di vedere i dati dal punto di vista logico relazionale che è fornendo una uno schema tabellare ma sostanzialmente non cambia niente ecco vedete c'è solo una rappresentazione grafica differente che cos'è questa freccia che collega l'id dell'artista a questo campo evidenziato in rosso a questo attributo che però nello schema r non c'era e questo viene fuori da una serie di regole di traduzione che vengono utilizzate per passare dallo schema r allo schema logico relazionale in particolare quando abbiamo a che fare con delle associazioni uno a molti come questa la regola di traduzione consiste nell'andare a prendere la chiave primaria e quindi l'identificatore univoco dell'entità o relazione dove c'è la cardinalità 1 n quindi si prende questi d e lo si deve aggiungere all'altra entità relazione a seconda del del modello nel quale ci stiamo muovendo quindi si prende l'id di artista lo si aggiunge ad album ed è proprio quello che abbiamo fatto questa è una regola di traduzione delle associazioni per cui viene fatto normalmente così poi ci possono essere dei casi particolari che adesso non mi interessa però prendere in esame questo campo questo attributo aggiunto nell'album si chiama chiave esterna o chiave straniera in italiano oppure in inglese foreign key quindi abbiamo chiave primaria o primary key chiave esterna o straniera oppure in inglese foreign key questi sono i due attributi mediante i quali è possibile realizzare la relazione tra i dati presenti nelle due tabelle artista e album questa è proprio la caratteristica dei dbms relazionali i quali mantengono le relazioni tra i dati in base ai valori presenti nei vari attributi vediamo un esempio abbiamo una tabella artista con due generici artisti art 1 e art 2 questi hanno come identificatore quindi come chiave primaria 1 e 2 e poi ci sono dei dati che non ci interessano e la tabella album all'interno della quale sono presenti alcuni album questi sono identificatori cioè le chiavi primarie dei vari album e attenzione cosa c'è nella colonna di questa tabella id artista abbiamo l'id dell'artista che ha prodotto questo album potete vedere anche da queste linee che collegano le varie righe delle tabelle che l'album 1 e l'album 2 sono stati prodotti dall'artista che ha id uguale a 1 cioè dall'artista art 1 e così gli album di id 12 13 14 e 15 sono invece stati prodotti dall'artista il cui id è 2 cioè dall'artista di nome art 2 anche da questa rappresentazione grafica si capisce che si tratta di associazioni relazioni 1 a molti perché a un artista corrispondono più album mentre preso un album a questo corrisponde uno ed un solo artista convenzionalmente le chiavi esterne le foreign key vengono messe in evidenza con un aggiungendo un asterisco dopo il nome però ripeto sono tutte convenzioni quindi si potrebbe anche decidere di usare convenzioni differenti qua il colore mette sono maggiormente in evidenza che appunto c'è una relazione tra questi due attributi mi preme adesso specificare alcuni aspetti teorici che sono molto importanti brevemente la relazione tra queste due tabelle realizzata con questi valori di id e di artista stabilisce un vincolo che si chiama vincolo di integrità referenziale e sottoposto ai seguenti vincoli allora non è possibile inserire un album senza aver inserito precedentemente l'artista questo naturalmente apre una parentesi nel caso in cui sia obbligatorio inserire la chiave esterna quando inseriamo un album noi potremmo anche decidere che la chiave esterna può avere un valore null e allora quel punto riusciamo inserire un album anche senza aver precedentemente inserito l'artista se invece rendiamo obbligatorio l'inserimento della id dell'artista quando inseriamo l'album allora a quel punto è ovvio che l'artista dovrà già essere presente nella tabella vediamo un altro vincolo quando si elimina un artista occorre decidere cosa fare delle istanze di album collegate mediante fore in key all'artista eliminato guardiamolo qua se io elimino l'artista dd1 cosa succede agli album 10 e 11 perché questi hanno una chiave esterna che fa riferimento a questo punto ad una riga che non esiste più l'artista id1 non esiste più se lo vado ad eliminare e dobbiamo quindi stabilire cosa fare linguaggio SQL ci permette di fare appunto questa specifica mediante delle regole che si chiamano regole a cascata cascade rules ulteriore vincolo nel caso si modificasse la primary key di un artista bisogna decidere come modificare le fore in key di album collegati infatti questo è sicuramente importante ma bisogna anche precisare che non è che si è un'operazione che viene fatta comunemente quella di cambiare gli id comunque supponiamo che l'artista 2 invece di avere di 2 abbia id 200 e a questo punto abbiamo degli album che continuano ad avere come chiave esterna il 2 ma 2 non esiste più o chissà potrebbe essere relativo ad un artista che nulla a che fare con questi album quindi anche in questo caso dobbiamo usare le regole a cascata per stabilire cosa fare di questi valori delle chiavi esterne quindi riepilogando ciò che dobbiamo fare è aggiungere alla tabella album la fore in key e poi stabilire quali sono le cascade rules lo possiamo fare sia agendo da php my admin sia con il linguaggio sql io adesso andrò a realizzarlo con sql prima di procedere con le istruzioni sql per fare queste operazioni chiarisco quali sono i mysql i possibili comportamenti da adottare quando andiamo specificare le cascade rules sia sull'update sia sul delete possiamo decidere di utilizzare cascade vediamo un esempio sull'eliminazione di una riga di una tabella se io elimino l'artista di d1 e scelgo come cascade rules cascade succede che vengono cancellate in cascata tutte le righe della tabella delle album collegate a quest'artista eliminato restrict invece impedisce la cancellazione dell'artista set nulla cancella l'artista consente di cancellare l'artista però al posto della foreign key 1 viene messo il valore nulla e quindi se vogliamo utilizzare questa regola non possiamo imporre che questo campo sia obbligatorio dovrà essere un campo opzionale l'ulteriore e ultima possibilità è quella di dire non fare nulla no action quindi rimarrà l'id dell'artista uguale 1 anche in assenza dell'artista 1 nella tabella artista passiamo a sql per aggiungere la colonna id artista nella tabella album dobbiamo scrivere questa istruzione alter table poi il nome della tabella album poi siccome vogliamo aggiungere una colonna usiamo add il nome della colonna id artista il suo tipo è un int 11 attenzione e deve essere il tipo identico a quello della chiave primaria a cui questa chiave esterna è correlata devono avere lo stesso tipo e quindi int 11 e poi il punto di virgola ripeto è necessario solo se ci sono altre istruzioni a seguire notate che io quando ho inserito il vincolo not null per questo campo in questo modo consento di inserire valori nulli nella chiave esterna ma consento anche di inserire un album senza necessariamente specificare l'artista che lo ha prodotto è una scelta progettuale non è detto che sia giusta o sbagliata in assoluto è semplicemente una scelta la seconda istruzione che dobbiamo eseguire è quella di andare a specificare che la colonna id artista è una chiave esterna è una foreign key bisogna sempre utilizzare il comando alter table seguito dal nome della tabella nella quale stiamo operando e poi di nuovo add perché stiamo aggiungendo un'ulteriore informazione seguito da foreign key tra parentesi tonde il nome della foreign key che id artista seguito dalla parola chiave referenzi seguita dal nome della tabella e tra parentesi tonde il nome della chiave primaria di questa tabella che la tabella correlata alla tabella album quindi qui specifico appunto che questa chiave esterna fa riferimento alla chiave primaria che si chiama id presente nella tabella artista seguono poi senza virgole le due regole a cascata on update e on delete e io ho deciso anche qui in maniera del tutto arbitraria nel senso che stiamo facendo un esercizio quindi non ci sono particolari ragioni per fare questa scelta ho deciso che nel caso venga fatto un aggiornamento io uso la regola restrict cioè impedisco la modifica della chiave primaria di un artista in caso di cancellazione dell'artista invece ho scelto la regola cascade cioè quando viene cancellato l'artista vengono cancellate anche cancellate anche tutti i suoi album bene dopo tutta questa chiacchierata introduttiva è arrivato il momento di eseguire codice quindi apro accedo al database e poi vado su la finestra di sql e inserisco le istruzioni alter table osservate che il cancelletto serve per inserire dei commenti e poi eseguo cliccando su esegui il risultato è che nella tabella album è stata inserita questa ulteriore colonna così come abbiamo richiesto io ho aggiunto oltretutto un commento come si fa a inserire un commento si fai modifica e qua potete inserire qualunque informazione che vi può essere utile vi faccio anche vedere qual è l'effetto dell'aver specificato che c'è una correlazione tra la tabella album e la tabella artista su questa chiave basta andare in vista relazioni sono nella tabella album attenzione altrimenti non vedete niente la seconda istruzione eseguita ha avuto come effetto quella di aggiungere questa chiave esterna vincoli del foreign key la chiave esterna si chiama idea artista e si trova all'interno della tabella album nel database musica 21 22 e a quale tabella fa riferimento la tabella artista in cui abbiamo una chiave primaria corrispondente a questa colonna id vedete inoltre che sono state aggiunte le regole a cascata on delete cascade on update restrict quindi possiamo aggiungere delle chiavi anche utilizzando php my admin e andando ad agire su nella sezione vista relazioni ora le due tabelle sono effettivamente correlate e possiamo vederlo anche graficamente basta spostarsi sul database musica andare a scegliere nel menu più designer